Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. La copertina del nostro telegiornale oggi è dedicata all'apertura della Porta Santa presso la piccola casa della Misericordia. Gela i particolari in questo servizio, vediamo. Nemmeno le avverse condizioni meteorologiche hanno fatto desistere i cittadini gelesi a partecipare all'apertura della Porta Santa presso la piccola casa della Misericordia. Dopo la celebrazione della Santa Messa in cattedrale, la processione si è snodata regolarmente fino al Palazzo Regina Margherita. Un tappeto di ombrelli si è diretto nella sede nei pressi di Piazza Sant'Agostino in cui il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, ha aperto la Porta Santa. In questo giubileo indetto da Papa Francesco e dedicato alla Divina Misericordia, dunque anche Gela avrà la sua Porta Santa che rimarrà aperta a quanti lo vorranno fino al 6 novembre prossimo. Grande la commozione del Vescovo Monsignor Rosario Gisana. La Porta della Misericordia, che in un certo senso è una esplicazione della Porta Santa e che con oggi abbiamo voluto inaugurare una serie di aperture che faremo in tutta la Diocesi nei luoghi dove non solo si pratica la misericordia ma anche diventa ispiratrice per assumere uno stile di vita ben preciso. Tutte le volte in cui pensiamo alla misericordia del Signore pensiamo a due aspetti della sua presenza nella nostra condizione umana. La prima è il perdono che noi accogliamo dal Signore in maniera gratuita, senza condizioni, senza bisogno di corrispondenze. E dall'altra l'atto di carità che noi compiamo nei confronti delle persone bisognose. Dietro tutto questo c'è il desiderio di far capire alla gente quanto Dio sia veramente vicino a noi, in modo particolare a quelle persone che vivono una situazione di emarginazione. Evidentemente è chiaro che la nostra città, come anche le città della nostra Diocesi, sono in qualche modo un po' segnate da tante condizioni di bisogno. È un simbolo, come giustamente è stato detto, un simbolo che desidera richiamare quello che Papa Francesco sta mettendo in evidenza e che è una sottolineatura ulteriore di quello che Gesù disse in maniera molto aperta e direi decisiva nei confronti degli scribe e dei farisei. E cioè che la nostra attenzione deve essere rivolta all'uomo e in modo particolare all'uomo bisognoso. È un messaggio di speranza che il Santo Padre Francesco ci ha voluto donare attraverso il Giubileo straordinario. Straordinario non soltanto perché capita, il Papa l'ha indetto 25-50 anni prima, ma perché è un anno straordinario di grazia. Il Papa non vuole che si celebri il Giubileo attraverso delle celebrazioni solenne, ma che si attenzionano i poveri, i piccoli, i umili. Un incidente stradale si è verificato alle porte della città di Gela. Lungo la statale 115, nell'impatto frontale tra due utilitarie, una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto, sono rimasti feriti 5 automobilisti. Per loro si è rivelato indispensabile il trasferimento al pronto soccorso. Un giovane di 24 anni è stato sottoposto a TAC dopo aver sbattuto la testa all'interno dell'abitacolo della Lancia Ypsilon. Ha riportato anche una ferita al mento. Per la donna alla guida della Fiat Punto si sospetta una lesione ad un ginocchio. Sul posto si sono recati gli agenti di polizia per i rilievi del caso. L'incidente sarebbe stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Per trasferire gli occupanti al pronto soccorso di via Palazzi sono state impiegate due ambulanze del 118. Intanto in via Venezia si è registrato un nuovo incidente stradale coinvolti due veicoli. In questa circostanza l'indice accusatorio è puntato contro il mancato funzionamento del semaforo. L'ultimo rimasto in città. Un impatto non grave si è verificato anche lungo la Gela Manfria. Tra il 23 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016 la polizia ferroviaria Nissena ha eseguito 67 controlli su treni viaggiatori, sottoposto 92 bagagli sempre a controllo. Ha impiegato in stazione 12 pattuglie per svolgere quotidiani servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie controllando e identificando sospetti. Sono stati così incrementati i servizi di sorveglianza con più pattuglie per garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori in tutto il periodo delle festività natalizie in un momento in cui il flusso ferroviario è in aumento. È stata arrestata per un mandato di cattura emesso dalla procura di Prato una 28enne catanese ospite in un centro di accoglienza a Nisseno. Tiziana Zarelli è accusata di aver commesso una serie di rapine con alcuni complici effettuate in Toscana ai danni di vari istituti di credito. Altra accusa che pende sul suo capo è la ricettazione di un'autovettura rubata poi rivenduta che era stata utilizzata per commettere le rapine. L'arresto è stato effettuato dagli uomini della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile Nissena guidata dal vice questore aggiunto Marzia Giustolisi. Ha il dovere di continuare a governare il sindaco di Gela Domenico Messinese non sottraendosi alle responsabilità nonostante quattro consiglieri gli abbiano voltato le spalle. Lo dicono Sandra Bennici e Guido Siragusa di Polo Civico Popolare. Riteniamo che l'unica cosa sensata da fare è attenersi alla volontà del popolo nel rispetto della legge che prevede una mozione di sfiducia motivata e votata dai due terzi del Consiglio Comunale ad almeno 24 mesi dall'insediamento del sindaco. Un movimento, affermano Bennici e Siragusa, fondato sul populismo e la demagogia lontano dalla realtà e incapace ad affrontare scelte di natura politico-amministrativa anche in popolari, non può essere coeso al suo interno. La gestione dei rifiuti e l'interlocuzione con l'Eni sono stati reali motivi che hanno portato lo scompiglio nel Movimento 5 Stelle. Quindi una povera lite sulla gestione, non su nobili principi, per come vuole farle intendere il nisteno Giancarlo Cancelleri. Poco o niente cambia nei rapporti tra Consiglio e Giunta. Infatti, quattro consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno dimostrato tutto il loro attivismo solamente in pochissimi atti, sottolineano Bennici e Siragusa. Il sindaco quindi si deve assumere le sue responsabilità in quanto fino ad oggi l'azione di amministrazione è stata insignificante e incentrata su un pressappochismo da brividi. Adesso, liberatosi delle zavorre, come lo stesso Messinese definisce gli ex assessori licenziati, il sindaco saprà imporre un cambio di marcia all'azione amministrativa della sua giunta. I due consiglieri ritengono che il centro-sinistra si debba assumere la responsabilità di proporre e approvare in Consiglio Comunale, quindi imporre gli atti di programmazione indispensabili per una buona amministrazione della città contemporaneamente, avviando una seria discussione al suo interno, finalizzata a ritrovare la perduta empatia. Preoccupa ancora moltissimo la vertenza a Gela. I sindacati si mobilitano e chiedono al governo provvedimenti urgenti per salvare l'economia e la dignità di una comunità intera. Sentiamo. Vertenza a Gela ancora senza nessuna soluzione in vista. Con una nota inviata alla stampa, CGL Cisle Will, congiuntamente alle segreterie delle federazioni dei metalmeccanici FIOM, FIM, WILM, denunciano la latitanza del governo nazionale rispetto ai drammi occupazionali che Gela sta attraversando, ulteriormente appesantiti dal silenzio che caratterizza questa fase della vita del governo rispetto ad un tema specifico, cioè riempire di contenuti il decreto, area di crisi complesse, tutte le misure derogatorie in grado di ammortizzare sotto il profilo occupazionale e quindi socio-economiche, il malessere che di giorno in giorno investe ai lavoratori. CGL Cisle Will, si legge ancora nel documento, hanno la certezza che se c'è una reale volontà politica la vertenza a Gela può essere risolta e la volontà politica dovrebbe vedere anche l'interesse dei tre deputati nazionali eletti in provincia di Caltanissetta, Cancelleri, Cardinale e Pagano, ai quali è stata indirizzata la lettera nella quale anche il Comune e la Regione chiedevano un sostegno economico per risollevare Gela da una situazione che più volte tra l'altro ha visto venir meno l'ordine pubblico. Leni scrivono ancora i segretari generali CGL Cisle Will, Giudice, Gallo e Castania a tutti i livelli ha il dovere di illustrare con più vigore, determinazione e chiarezza a tutte le imprese che fanno parte della sua lista fornitori che tra i compiti di ogni impresa c'è anche il ruolo sociale motivo che ci induce ad un appello al buon senso in un mondo che ha legittimamente goduto nell'ultimo trentennio di grandi commesse e che oggi dentro alla più grande crisi mondiale deve dimostrare di essere impresa. Il sindacato con tutte le categorie, seppur solo e con zero poteri per modificare le leggi attuali chiede ad alta voce alla politica e a tutti i partiti di intervenire per evitare la morte dell'industria del sud. E intanto il 20 gennaio prossimo si fermeranno tutti i dipendenti del gruppo Eni presenti in città. Le sigle sindacali di Filchtem, Femca, Wiltec e UGL chimici aderiscono infatti allo sciopero nazionale indetto nelle scorse settimane. Gli impianti verranno messi in sicurezza. C'è il timore che il gruppo Eni voglia man mano di smettere di iniziare proprio dalla raffineria di Contrada Piana del Signore. Questa volta però non si fermeranno soltanto gli operai della multinazionale ma verranno fermati anche processi produttivi dagli impianti di raffineria ai pozzi Enimed. Abbiamo già chiesto un incontro ai responsabili aziendali, spiega il segretario provinciale della Femca CISL, Francesco Emiliani. Chiederemo l'attuazione degli assetti di sicurezza di tutti gli impianti in funzione. giorno 20 gennaio infatti verranno fermati. Per questa ragione si pone l'esigenza di applicare tutti i protocolli di sicurezza. E così lo sciopero del 20 gennaio potrebbe essere soltanto la prima tappa di un percorso di mobilitazione più ampio. Dopo l'indotta attualmente decimato, anche lavoratori del diretto di raffinerie e più in generale quelli del gruppo Eni attivi in città temono e non poco per il loro prossimo futuro occupazionale. La proposta di accordo di programma presentata dall'amministrazione comunale al Ministero dello Sviluppo Economico, a quello del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevede che la bonifica delle aree inquinate possa non essere di competenza della società responsabile dell'inquinamento stessa in violazione del principio chi inquina paga. E quanto sottolinea il consigliere comunale indipendente Carmelo Casano che in una nota evidenzia che non è chiaro se nella riunione in prefettura si sia convenuto di assegnare le aree dismesse con bando pubblico dopo la bonifica delle stesse o nello stato inquinato in cui si trovano o su chi saranno riversati i costi delle bonifiche. Al sindaco di Gela Casano chiede di avere risposta chiara sul perché l'amministrazione comunale ha redatto una proposta di accordo di programma che potrebbe favorire le aziende responsabili dell'inquinamento che potrebbe arrecare danno economico alla collettività oltre ai danni ambientali e sociali già subiti che permetta di chiarire al consiglio comunale e ai cittadini l'iter procedurale reale che l'amministrazione comunale porta avanti nei tavoli in cui è seduta. Cambiamo decisamente argomento conclusa con un bilancio estremamente positivo alla seconda mostra di presepi, presepi in comune organizzata dalla Proloco di Gela in collaborazione con le scuole ieri nel giorno dell'Epifania cerimonia di chiusura vediamo Dinanzi ad una straordinaria cornice di pubblico si è conclusa ieri nel giorno dell'Epifania la seconda mostra dei presepi allestita a Palazzo di Città promossa dalla Proloco Gela grazie alla preziosa collaborazione degli istituti scolastici locali La mostra inaugurata lo scorso 19 dicembre ha riscosso un notevole successo di pubblico molto apprezzate le composizioni della natività a frutto dell'impegno degli studenti e dei loro docenti significativi i temi trattati dalle scuole immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni durante la serata conclusiva i rappresentanti della Proloco hanno ringraziato i partecipanti rinnovando l'appuntamento al prossimo anno la Proloco ha rivolto anche un invito all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Messinese in un periodo assai complicato sotto l'aspetto occupazionale a causa della grave crisi che interessa l'industria sarebbe opportuno puntare sul turismo che può rappresentare un vero e proprio volano per l'intera comunità locale ad allietare la serata conclusiva della seconda mostra dei presepi è stato Samuele Manmano assieme alla sua band il pasticcere Angelo Cassarino e il panificatore Michael Cassarino hanno offerto ai presenti prodotti tipici dolci e salati l'accoglienza è stata curata dagli studenti dei corsi diurni e serali dell'istituto alberghiero Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo gli allievi coordinati dal professore Emiliano Sigona ai dirigenti scolastici e a chi ha sposato il progetto della Proloco sono stati consegnati dei riconoscimenti per la fattiva collaborazione presenti anche i rappresentanti della Proloco di Delia che hanno offerto una degustazione della Cudi Red con il Lions dei Castelli di Caltanissetta a breve invece sarà suggellato un protocollo di intesa al fine di valorizzare le bellezze del territorio gelese e nisseno estratti biglietti vincenti della pesca dell'epifania con numerosi premi messi a disposizione da vari commercianti che hanno aderito all'iniziativa i numeri vincenti saranno pubblicati sul televideo di Canale 10 sul sito www.prolocogela.com e sulla pagina facebook Proloco Gela i premi possono essere ritirati nei locali della Proloco presso Palazzo Regina Margherita in corso Vittorio Emanuele sabato 9 e sabato 16 gennaio dalle 10.30 alle 12 bisognerà consegnare la copia del biglietto vincente appuntamento al prossimo anno con la terza mostra dei presepi il bilancio è assolutamente positivo noi come Proloco abbiamo fatto una riunione con tutti i soci siamo soddisfattissimi per l'ottima riuscita grazie ancora una volta a tutti i dirigenti scolastici le maestre e tutti i bambini che hanno partecipato con grande entusiasmo questo è soltanto il secondo anno se tutto va come sta andando sicuramente sarà una grande tradizione gelese quindi felicissimi che noi come associazione Proloco abbiamo dato questo input anche a Gela si possono visitare i presepi e sono presepi particolari perché hanno un tema ogni presepe ha una sua storia e deve essere letto come viene letto un grande quadro di un artista volevo ringraziare la Proloco per avermi invitato sono felicissimo di partecipare a questa chiusura ho visto questo evento veramente meraviglioso tanti presepi, tanta varietà il fatto di aver coinvolto anche le scuole quindi i bambini, i più piccoli è un grande segno per questa città che deve ripartire proprio dal basso per avere una città in futuro sempre migliore un evento che è stato tra i più apprezzati dai cittadini gelesi ma anche con orgoglio devo dire che l'amministrazione di Gela finalmente ha aperto il comune alla città ed è una bella simbiosi devo dire che anche il comune è sembrato per queste festività un luogo di festa, di aggregazione e non un luogo abbandonato come gli altri anni ci fermiamo, c'è la pubblicità linea alla regia torniamo tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per farsi registrare lo hanno comunicato i padri agostiniani Continuano gli appuntamenti col grande jazz al teatro comunale Eschilo di Gela domani andrà in scena Francesco Buzzurro mentre venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo il 13 gennaio con Sergio Vespertino Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015-Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crocifisso Ragona domenica 10 gennaio prossimo alle 19 recital del chitarrista Massimo Martinez Continueranno fino al 10 gennaio prossimo le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio presso il piazzare della chiesa di San Rocco a Cantina Sociale pattinaggio su ghiaccio eventi, mostra di presepi albero della vita La maternità con le sue gioie e i suoi punti interrogativi al centro del libro inchiesta partorirai con dolore della giornalista Rossana Campisi presentato in città sabato pomeriggio nella sala degli oratori di Palazzo Moncada nove mesi fra falsi miti consigli, passaparola di donna in donna dubbi e perché che colgono la donna durante la gravidanza e prima del parto ai quali la giornalista Nissena ha provato a dare una risposta aiutando le gestanti ad affrontare la maternità evitando così le trappole del sistema sanitario un viaggio nei reparti di ostetrici e ginecologia degli ospedali italiani OVE ha raccolto dati, testimonianze delle mamme ma anche le voci dei medici ed esperti vari per fornire alle donne la chiave per tornare a essere le uniche protagoniste della propria maternità un tema attuale alla luce dei recenti fatti di cronaca Parlare di parto è l'ultimo vero tema femminile se ne parla sempre meno se ne parla in toni un po' edulcorati e fare un po' il punto sulla situazione attuale soprattutto nazionale sembrava proprio necessario primo perché insomma siamo anche l'ultimo paese nella classifica europea per natalità ma siamo il primo per quanto riguarda i cesarei sono due dati abbastanza sconfortanti che ledono soprattutto la società in generale non solo le donne perché uno dei più grandi errori è appunto pensare che sia un tema prettamente femminile quindi gli aspetti salienti sostanzialmente è la conoscenza la conoscenza che spesso viene negata viene presentata parzialmente ed è quella che poi crea ansie crea disinformazione che è alla base delle grandi paure delle grandi ansie e anche di quel così se vogliamo grado di imprevedibilità che si somma a un evento potenzialmente comunque pericoloso e imprevedibile come già lo è il parto l'autrice ha iniziato la sua esperienza di giornalista nella radiazione palermitana della Repubblica e poi è prodata a Milano Ovevive e collabora con varie testate tra cui Gioia Vanni Tifer e Donna Moderna ad intervenire alla presentazione l'assessore alla cultura Marina Castiglione il presidente della Proloco Giuseppe D'Antona e le responsabili dell'associazione All'Atta Amore ormai All'Atta Amore è un punto di riferimento per le donne che si accingono a diventare mamme grazie soprattutto alla nostra esperienza virtuale ma anche di vita reale infatti con i nostri gruppi Whatsapp seguiamo il prima il durante e il dopo quindi con i corsi pre-parto quando le mamme appunto sono dubbiosi e ansiose per quello che accadrà ma anche durante il parto sono sempre dei parti corali dei parti condivisi ma anche e soprattutto il post-partum che spesso lascia le mamme da sole in preda a mille dubbi e a mille ansie invece i nostri gruppi riescono a colmare questa solitudine delle mamme e riescono a dare sostegno per promuovere l'allattamento al seno ma anche per promuovere stili di vita salutari e comunque consentire alle donne di condividere questo momento importante Adesso parliamo di sport campionato di eccellenza continua la marcia triunfale del Gela Calcio l'anno nuovo si apre con l'ennesimo successo conseguito da Bonaffini e compagni i biancazzurri nell'ambito della prima giornata di ritorno hanno vinto per 3 a 0 sul campo del Raffadali grazie alle reti realizzate da Nassi Minci che è pettinato una ulteriore prova di forza del team allenato da Totò Brucculeri che si trova sempre ad un punto dalla capolista San Cataldese ieri ha vinto che ieri ha vinto con la Parmonval sarà testa a testa entusiasmante tra le due compagini domenica prossima la formazione tanto cara al presidente Angelo Tuccio giocherà al Presti contro la Folgore e da domenica prossima per tutte le partite interne Gela Calcio e Proloco saranno insieme per la promozione della città la società Biancazzurra e l'associazione che si occupa della promozione e sviluppo del territorio hanno deciso infatti di collaborare per favorire la conoscenza della città greca ad inizio partita il capitano della squadra Biancazzurra Donerà a tutte le società ospiti al direttore di gara oltre all'istituzionale Gagliardetto anche una targa con il simbolo della Proloco e del Gela un pensiero semplice che tuttavia racchiude in sé la voglia e la determinazione di chi crede nello sviluppo e nella promozione della nostra città Nel campionato di promozione successi anche per l'Atletico Gela e il Macchitella Gela i giallorossi hanno battuto in casa per 2-1 e Ravanusa mentre gli Aquilotti hanno rifilato tre golli in trasferta al Castel Termini le reti dei giallorossi del tecnico Peppe Misiti sono state realizzate da Asha e dal nuovo arrivato Scudera in classifica l'Atletico è sempre terzo a quota 29 punti per il club biancorrosso invece gol portano la firma di Caruso autore di una doppietta e di Faraci in graduatoria il Macchitella si allontana dalla zona play-out piccolo grande varietà è lo spettacolo con Tuccio Musumeci che andrà in scena al Teatro Eschilo di Gela sabato 9 gennaio alle 21.30 domenica 10 gennaio alle 17.30 il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0933 911 892 oppure 345 5880 580 e andrà in scena al Teatro Antidoto di Gela la commedia il triangolo no della compagnia I Guitti di Caltanissetta questa sera con Alessandra Falci il botteghino lo ricordiamo è aperto tutti i giorni dalle 17.00 e riprenderà domani al Cineteatro Antidoto di Macchitelli il film uno per tutti con gli orari di rotazione della pellicola che sono 17.30 19.30 21.30 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci A presto! A presto! A presto! Grazie per la visione!